Guardate l'espressione del CT ungherese Ienei, letteralmente trasecolato, rivediamo lo scatto di Ziantakis, il cross di sinistro è molto teso e ci mette il braccio in maniera del tutto volontaria, Telek, calcio di rigore senza discussioni. Non ha avuto neanche un dubbio il signor Helmut Krug, direttore di gara tedesco, ancora una ripetizione per il fallo di Telek, incaricato del calcio di rigore a posto l'Aki. L'ultimo rigore per la Grecia lo aveva battuto Dimitriadis il 17 febbraio scorso contro il Lussemburgo, 2 a 0, adesso parte invece a posto l'Aki, il tiro e la palla in rete, botta centrale, si è buttato alla sua destra Petri, la Grecia è in vantaggio. Finalmente abbiamo l'occasione di vedere il primo sorriso stampato sul volto di Panagulias, mentre sono letteralmente in delirio i tifosi greci che hanno accompagnato la squadra ellenica a Budapest. Ancora una ripetizione per la città centrale di Apostolakis che porta in vantaggio la Grecia. 25esimo minuto del secondo tempo, ha scelto l'angolo alla sua destra Petri e ha fatto male perché la... Grazie. Grazie.